In attesa che il Festival Bolzano Danza entri nel vivo lunedì prossimo con lo spettacolo della Lonzo King Airlines Ballet al Teatro Comunale, stamani alcuni dei negozi lungo via Museo si sono trasformati in piccoli palcoscenici grazie a Danza in vetrina. L'iniziativa è ormai una tradizione per questa 32esima edizione del Festival internazionale, è stata proposta di sabato, giornata tradizionalmente dedicata agli acquisti. Le performance della durata di 10 o 20 minuti ciascuna hanno incuriosito molti passanti, proposta anche la coreografia che quest'anno ha vinto il concorso Danza in vetrina a Padova.